allora ciao fotografo perché sto girando questo video non lo so nemmeno io mi è venuta in mente un'idea scorrevo oggi un po il feed del del gruppo e mi sono reso conto che molte persone scrivono ma postano le loro foto che chiedono opinioni sulle loro foto chiedono consigli eccetera molti vedo che sono carini e si danno si si prodicano a dare consigli ad aiutare questo mi fa sempre molto piacere anche a me ogni tanto mi farebbe piacere intervenire ma sono sempre magari in situazioni che ho il cellulare in mano non posso perché non ho tempo insomma un po mi dispiace non non dare una mano quando quando posso quindi ho pensato come posso risolvere questo problema del tempo potrei provare a dedicare un'oretta settimana insomma quando quando mi libero per realizzare un video e andare a scorrere feed del gruppo insieme e andare a commentare un po le foto ma anche commenti di delle delle persone vedere un po come possiamo come posso anche darvi un consiglio nelle varie diverse situazioni per chi non conoscesse questo gruppo perché magari questo video lo posterò magari sul mio canale youtube perché penso possa essere utile sempre analizzare le foto varie nostre possa essere utile alimentando anche una discussione per anche chi non c'entra nulla col gruppo magari vuole vuole migliorarsi e da da alcuni consigli e commenti può può farlo questo gruppo ciao fotografo è una sorta di contenitore siamo tutti dentro a questo contenitore ci sono fotografi amatori persone che hanno appena iniziato non sanno proprio neanche cos'è una macchina fotografica ma ci stanno provando ci sono professionisti che invece sono già molto avanti del loro lavoro ci ci guadagnano con la fotografia ci sono diverse anime insomma che convivono insieme ognuna fotografa per motivi diversi ed è bello anche stare insieme e poterci ritengo che ognuno di noi comunque dagli altri possa imparare anche il professionista da quello che sta iniziando è perché magari posta una foto al professionista la vede gli viene in mente un'idea gliela copia gli frega l'idea e ci guadagna fantastico io lo faccio continuamente con le vostre foto i clienti sono sono veramente molto contenti dei vostri lavori no scherzo ovviamente non vi ruberei mai un'idea però magari se capita lo valuto lo valuto a parte gli scherzi ok stavo dicendo un gruppo con tutte queste anime e ognuno posta le sue foto c'è chi chiede informazioni c'è chi chiede consigli diretti è un gruppo di condivisione io cerco solamente di amministrarlo in modo che non si creino i soliti screzzi che si creano nei gruppi quindi persone che magari cercano di scaricare la loro il nervosismo e le loro frustrazioni quotidiane sugli altri evitiamo questo no perché se no altrimenti non serva nulla allora vediamo un po cosa c'è in questo feed di oggi vediamo un po allora laura maria piatota posta questa foto l'avevo già vista tra l'altro sta foto qua non è la prima volta no forse è una simile a una che avevo già visto e chiede che ne dite di questa foto laura che ti posso dire allora vediamo un po i commenti che sono curioso maria gli dice maria giugli dice che che apertura del fra mai usato non ricordo francamente dice lei ma ti piace chiede giustamente laura e lei sì ma mi sarebbe piaciuta di più se fosse stata a fuoco anche in fondo e laura dice sì hai ragione a maria allora cosa dire di questa foto c'è una buona simmetria aspettate che la ingrandisco c'è una buona simmetria la fuga va quasi al centro ma non esattamente al centro quindi magari potevi magari cercare di portare il punto di fuga un pochino più in basso e leggermente più a destra così a occhio mi sembra un po decentrato magari mi sbaglio poi il fuoco in effetti è molto breve c'è la profondità di campo è molto corta cioè la profondità di campo è la distanza che c'è fra il primo punto messo a fuoco e l'ultimo punto a fuoco nell'immagine come vedi la profondità di campo qua è pochissima per quello la domanda di che diaframma hai usato infatti se fosse stata tutta a fuoco probabilmente sarebbe stata più interessante non lo so perché comunque alla fine è un paesaggio non particolarmente interessante nell'insieme quello che posso dire con quando dico un paesaggio uno sfondo magari ci fosse stata un elemento in primo piano qua che ne so un'anatra un animale una volpe che stava passando potrebbe essere stato un buono scatto perché magari c'era un protagonista all'interno di un contesto carino il contesto così da solo non è che mi faccio non mi dica mi dica tantissimo quindi Laura continua ad andare avanti perché comunque è un punto di partenza Vilma dice che ha 61 anni ha cominciato adesso vabbè non c'è un'età per per iniziare si può iniziare anzi anzi la fotografia è bella soprattutto quando io facendola per lavoro spesso mi perdo il gusto della fotografia la fotografia è bella quando è anche spenserata quando uno può girare fotografare libero senza pressioni dei clienti ma creare quello che quello che gli viene in mente dice ha cominciato a poter imparare accetto consigli e critiche per migliorare vediamo un po cosa cosa dice salvatore bella a me piace che impostazione ha usato ha usato un diaframma 22 un quarto di tempo questo perché così almeno si vede questo movimento mettendo un quarto di tempo il movimento del treno è trascinato e ha usato un 24 millimetri quindi un grande angolare iso 100 bella molto di impatto dice barbara grazie a barbara allora cosa dire il taglio non mi fa impazzire nel senso che non è né quadrata non è neanche un 5 settimi non so è un taglio un po ambiguo c'è un cappello uno zaino c'è un po di costruzione nell'immagine 28 like piace in generale piace forse a livello di mood mi dice poco forse non lo so questo diaframma 22 che tiene tutto a fuoco con questo treno fuori fuoco mosso non non mi racconta magari non mi dà quella sensazione cinematografica che forse in un'immagine del genere avrei voluto apprezzato di più quindi magari avrei apprezzato anche un taglio più orizzontale sono opinioni che ti butto lì magari un mood anche un po meno realistico meno neutro mi sarebbe anche servito di più non lo so non ho delle opinioni precise su questa immagine ci dovrei ragionare un po un po di più non mi fa impazzire vilma però comunque hai iniziato da poco va bene va benissimo soprattutto perché hai usato hai usato la tecnica in modo facendo delle scelte probabilmente volute no anche questa cosa di mettere il treno in treno mosso in questo modo andiamo avanti jasmine la prima è l'originale la seconda originale capovolta qual è la meglio pareri sempre i giochetti del primo e dopo no Fabio dice sempre la seconda peccato per la gru in effetti c'è questa gru sia nella prima che nella seconda che è dentro vabbè poteva esserci come poteva non esserci probabilmente nella scelta del gioco del giochetto non è che cambi molto qual è la prima qual è la migliore ma non lo so qual è la migliore non come dire scusate per la voce ma ci ho avuto una ferma una settimana di febbra 38 mi sto ancora riprendendo qual è la migliore la migliore è un po soggettivo secondo me non non c'è una una meglio dell'altra vediamo cosa dicono un riflesso in posizione normale quasi sempre più interessante con l'elemento originale mentre il solo riflesso può diventare più interessante se è capovolto ma non è una regola matematica bisogna sempre valutare l'occhio un po' il discorso che dicevo io che è soggettivo andiamo avanti possiamo dire che è una questione soggettiva anche jasmine reputa che sia una questione soggettiva in effetti è così andiamo avanti eduardo chiede un consiglio vorrebbe iniziare un nuovo progetto ma non so che tematiche trattare avete qualche idea ecco a questa domanda direi che sarebbe interessante rispondere anche sotto i commenti di questo video perché il discorso delle tematiche della tematica è bello affrontare un progetto in fotografia cioè il che vuol dire prendersi sintetizzare tutto quello che si è imparato e cercare di concentrarsi su un progetto fotografico particolare ma trovo che sia sempre un esercizio interessante e da questi progetti nasce sempre qualcosa che poi vale perché comunque chi si dedica a un progetto investe del tempo in quel progetto e ci mette tanta passione nel farlo e poi alla fine di conseguenza ottiene sicuramente un risultato vediamo che idee nascono la bellezza è un progetto la bellezza è un progetto che danno e sto cercando di mettere su dice palladino annamaria che tra l'altro l'ho conosciuta è una makeup artist sarda per cui chi è sardo la cerchi per eventuali lavori no forse è un hair stylist scusatemi eh si occupa di capelli comunque chi ha bisogno chiami annamaria che è sarda ci stavo pensando anche io ma essendo molto relativa annamaria ci siamo conosciuti se non mi sbaglio su un evento dove facevo delle foto per mondadori se non mi ricordo male però non mi ricordo più qual era ci stavo pensando anche io ma essendo molto relativa come argomentazione rimane un problema sì certo la bellezza è molto ampio bisogna capire poi qual è bisogna trovare una nicchia no nel tema Fino Silvestre dice dipende dai tuoi interessi dalle tue passioni giustamente deve venire da te Marco Musto sono d'accordo Enrico Piccariello che commenta sempre in modo molto interessante i post di questo gruppo e dà sempre ottimi consigli io posso raccontarti il mio di progetto in realtà sono due recuperare quanto più possibile foto antiche della mia città anche in periodo di guerra post bombardamento e digitalizzarle alla maggior risoluzione possibile questo è un progetto molto figo è anche molto utile del resto è questa è una cosa bella da vedere mi piacerebbe che magari postassi qualcosa Enrico sul gruppo di queste cose perché è molto interessante e magari potresti anche raccontarci un po' come recuperi le foto puoi rifare gli stessi scatti cercando di essere quanto più possibile fedele all'inquadratura originale fondere le due immagini in modo da avere il 50% del fotogramma con il nuovo e il 50% con il vecchio stampare le foto in un formato 35-50 e fare una mostra personale non so se in questa vita riuscirò ma credo nella reincarnazione ce la devi fare assolutamente perché è troppo interessante allora per esperienza personale dice Giovanni Albani ti suggerisco di provare cose diverse pensa a qualcosa che ti attragga se ti attrae ancora dopo qualche giorno allora fai uno scatto di quel tipo e vedi che l'effetto ti fa dentro che effetto ti fa dentro se ti sembra ancora interessante dopo averlo fatto sì è vero, è vero è assolutamente vero i Joule Ossur il progetto è proprio la cosa più difficile in effetti è difficile perché ti costringe ti costringe a focalizzare l'attenzione verso un tema specifico e quindi ti crei dei paletti devi muoverti all'interno di questi paletti e questo è difficile ma dà anche tante soddisfazioni perché si lavora meglio quando ci sono dei paletti spesso mi capita che dei clienti che mi guardano e mi dicono voglio fare queste foto e come le vuoi cioè non hanno idea non hanno nessun tipo è per me un problema perché poi quando tu le foto le consegni gli vengono un sacco di idee di come le avrebbero volute ma a me mi serve saperlo prima invece quando mi viene un cliente mi dice un'agenzia pubblicitaria mi dice guarda bisogna fare le cose così così e così e io ho dei paletti ben precisi posso muovermi creativamente all'interno di quei paletti e ottenere dei risultati che siano ottimi per me e ottimi per l'agenzia e per il cliente ciao a tutti volevo sperimentare qualche dice Sasha nuovo collaboratore di talento per esempio queste etichette qua nei gruppi le mette direttamente Facebook in base a i like ai commenti che fai lui ha questa etichetta nuovo collaboratore di talento perché evidentemente molte perché l'ho visto anche molte foto che imposta vengono sono piacciono molto e di conseguenza viene attribuito questo questa etichetta qua infatti vedete che c'è 41 like più di 41 like 42 ma di 44 like e due commenti e lui dice ciao a tutti volevo sperimentare qualcosa di nuovo per me allora ho tentato questo autoscatto lo scatto è interessante è un bel autoscatto bel colore un bel tramonto sicuramente interessante è un test bisogna fare questi test per provare cose nuove perché poi da lì nascono idee creative sviluppi nuovi Enrico dice molto interessante Sasha dice grazie per essere il primo esperimento bellissimo dice Rosy grazie mille Sasha vedete come nei gruppi in questo gruppo ci siano degli scambi tra le persone si possa si possa e da questi scambi poi possono nascere nascere a parte amicizie perché poi si può creare anche delle affinità fra le persone secondo me è una bella cosa ma poi si può anche veramente imparare si possono imparare tante cose allora Giovanni Galdi tutti i miei ricordi sono in bianco e nero ma il ricordo a mio piacimento scusate ma li coloro a mio piacimento con la fantasia va bene come quando sei bambini ci sa una cosa da dipingere in bianco e nero ci danno pennarelli e uno sceglie di dipingere un po' questo è la sintesi della foto in bianco e nero la bellezza del bianco e nero è anche quello di potersi immaginare quello che non c'è ed è bello immaginare quello che non c'è è un po' la sintesi della fotografia perché con la fotografia si può far vedere tante cose ma attraverso quello che non fai vedere ne fai vedere altre che non ci sono che si possono immaginare allora la prima cosa che mi viene da dire d'impatto subito appena la vedo perché mettete le firme sulle foto questo lo dico sempre non c'è l'obbligo in questo gruppo di togliere la firma però vi assicuro che appena un professionista una persona che si occupa di fotografia a livello professionale vede una foto con una firma dice ok quello non è un professionista che non c'è nulla di mare a non essere professionisti uno può fare le foto per passione però insomma è un metro è un esempio che vi faccio per farvi capire subito un po' quanto ci vuole a capire se se sei un professionista o no reputo che la firma non aiuti perché prima di tutto toglie valore alla foto la foto deve essere pulita si deve vedere bene poi fate quello che volete è solo un consiglio poi vabbè hai fatto la cornice anche questa cornicetta qua nera l'avrei anche tolta avrei lasciato proprio il bianco pulito via scritte via tutto perché in sé è anche una bella composizione poi cosa ha di problema questa foto che è probabilmente il più evidente il cielo cupo l'hai molto 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 tirato fuori in post produzione il che non è sbagliato però cioè qui ci hai ci hai dato hai forse esagerato un po' troppo perché a parte il fatto che quando si fa questa cosa bisogna fare molto attenzione ai bordi come si vede qua si vedono degli aloni chiari intorno alla chiesa che ti fanno subito capire che c'è stato un ritaglio forte guardate che questo tipo di problematiche sono successe spesso soprattutto nel momento in cui anche con fotografie professioniste nel momento in cui dalla pellicola sono passate al digitale cioè non avendo ancora bene il metro cioè non essendo molto capaci come usarlo sto digitale alle volte uscivano fuori queste cose queste cose qua sono imperfezioni sono eccessivo utilizzo della post produzione in questo caso forzature che poi risultano subito ti danno subito la percezione di una foto finta no? però vabbè appunto ripeto il bianco e nero è un bel bianco e nero la composizione c'è poi vabbè il soggetto non è che ti racconti granché però nell'insieme poteva essere un bello scatto se forse avessi Giovanni un po' meno tirato con il cielo però vabbè andiamo avanti Massimiliano Leonardo Garzetta a pesca vediamo un po' la garzetta eh questa è una bella foto in bianco e nero è un bel momento perché ci sono dei pesciolini che stanno saltando è un bell'attimo scattato con un non lo so se è un flash non so è interessante sapere come che luce era se è una luce di una macchina se se è un flash perché è laterale qua il flash non si capisce perché lo riesco a ingravinare un po' in un video spiego in un video andatevelo a vedere spiego come fare a capire delle volte guardando una foto come in questo caso io non ho non ero lì quindi non posso sapere che luce ha utilizzato scusatemi massimiliano quindi però io posso ho un modo e lo spiego in quel video lì andatevelo a rivedere di capire come fare cioè di capire dove era questo questa luce se non mi sbaglio come vedete dallo speculare dell'occhio esattamente questo punto qua la luce si trova in alto a sinistra del fotografo cioè scusatemi a sinistra del soggetto in alto quindi mi viene da pensare che massimiliano magari mi sbaglio però abbia usato un flash e ttl ma non su sulla macchina sulla slitta della macchina altrimenti il bollo lo speculare sarebbe stato al centro dell'occhio più o meno dell'animale o comunque spostato un pochino qua in questa in questa area ma piuttosto abbia un flash che magari tenuto con una mano oppure tenuto da qualcun altro oppure non lo so massimiliano raccontaci perché siamo curiosi l'ha usato l'ha usato andiamo avanti allora la chiara urbani salve a tutti sono da poco a questo gruppo quindi prima di tutto mi presento sono chiara e ho 17 anni ah come giovane la chiara mi sono appassionata da poco alla fotografia e ho molto da imparare utilizzo una Canon EOS 4000D con obiettivo FS 18 qui 55 millimetri volevo condividere con voi queste foto per avere le pareri grazie allora uno zoomino 18-55 vediamo le foto della chiara la chiara 17 anni giovanissima allora ma chiara io non lo so in queste foto qua allora non so mai come approcciare in queste foto sono un po' non saprei cosa dirti tanto ti direi continua a fotografare vai avanti sperimenta vai avanti perché sì mi dicono poco cosa mi volevi raccontare con questi scatti ti piaceva la luce ti piaceva la situazione prova tu a raccontarmi perché l'hai fotografata così magari scrivono nei commenti se ti va a questo video perché mi interessa capire perché hai fatto queste scelte prima di chiedermi prima di chiederci a noi se cosa hai sbagliato cosa hai fatto bene in queste foto cioè dei pareri chiedi dei pareri dice a noi dice a noi invece cosa cosa volevi comunicare qual è la sensazione che volevi che volevi cogliere da questi da questi scatti vediamo un po' cosa hanno scritto gli altri Ennio scrive ciao Chiara Chiara ti consiglio un corso base per poter apprendere le basi e poter cominciare a creare questo chiaramente è un consiglio che vale per un po' tutti quelli che stanno iniziando e va benissimo ciao Chiara benvenuta Chiara ciao Chiara quello sono io perché l'avevo già visto sto post Gilberto Poccioni strati e strati di trasparenza sino a diventare invisibile mi piace creare sperimentare ma non so se può andare e io ho già scritto perché l'avevo già visto questi scatti certo che può andare continua così bel mood perché perché sono belli insieme sono due scatti di due particolari del corpo non sono dettagli più avanti posterò un video sui dettagli dove parlo proprio del dettaglio fotografico questi qui quando si parla di corpo umano non si parla di dettagli ma si parla di particolari ricordatevela questa cosa soprattutto anche quando anche nel cinema questa cosa in generale vediamoli questo come vedete sono più belli secondo me sono più belli insieme che separati quindi ti direi Gilberto perché non provi a fare un trittico la prossima volta comunque un bel esercizio questi sono scatti scatti interessanti ti dici Gilberto mi risponde grazie purtroppo non ho modelle ma mi organizzerò ma per fare queste cose qua non servono modelle puoi prendere un amico puoi prendere tua moglie tua fidanzata chiunque se non sei fidanzato magari è l'occasione di chiedere a una ragazza se vuole posare per te magari poi ti fidanzi non lo so ci sono tante possibilità la fotografia ti dà tante opportunità però non usatela per broccolare cioè dai su cerchiamo di darsi un po' di ritegno allora Davide Sapienza Pareri Pareri mi piace fantastico quando si chiede Pareri perché giustamente uno vuole sapere vuole avere dei consigli vediamo cosa gli consiglia Lorenzo secondo me è un pochino anonima concordo con Lorenzo forse forse ma più che anonima già vista forse questo la fa diventare anonima no? perché quando hai visto è come quando posti un tramonto il tramonto si sa che è bello ragazzi cioè o c'è qualcosa di diverso se mi postate un milione e mezzo di tramonti sempre un tramonto è sarà bellissimo sarà fantastico ma deve succedere qualcosa intorno a sto tramonto se no sempre un tramonto rimane no? e ripeto il tramonto vale sempre la pena ad essere guardato quello è il vantaggio però allora Barbara Scandrone carina l'inquadratura e lo stormo di gabbiani che sembra stiano assaltando la barca un pochino spenta per i miei gusti ok sono pareri ecco quello che mi preme dire è che le persone dicono la loro opinione poi sta al fotografo che posta andare a valutare se l'opinione della persona se il consiglio della persona è un consiglio da seguire o se reputano che non sia un consiglio giusto sta alla vostra sensibilità non è che tutti quelli che consigliano magari danno dei consigli fantastici dicono la loro opinione ognuno dice la sua poi si fa un po' la sintesi delle opinioni e si capisce dove andare in che direzione andare no? Federica Cagliazzo cosa ne pensate? allora Gianni dice bravo ma no scusate ci sono altri commenti allora Cristina Mastroli mi piace molto grazie grazie bel taglio dice Enrico grazie concordo perfetta dice Hammer molto bella dice Franco colpito in pieno quello che volevi far vedere nella foto tutto perfetto grazie Andrea Bertozzini quello che mi piace di più è l'espressione che generalmente vedo spesso trascurata bella 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 scusate ho letto malissimo perché stavo leggendo quello che mi piace di più è l'espressione che generalmente vedo spesso trascurata bella 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 grazie bella vera vedo che piace sta foto grazie direi un bel ritratto complimenti bravo molto bella bravo brava dice Federica giustamente scusa dice Gianni con la A maiuscola sì allora sì è un bel ingrandiamola vediamola a questo punto perché ha preso tanti like è un bel ritratto sì sì magari consiglierei alla modella di non esagerare con la matita sulle sopracciglia però oppure se lo fa magari ammorbidire un po' i contorni comunque sì dai è un bello scatto andiamo avanti andiamo avanti ragazzi andiamo avanti allora Giovanni Galdi Salerno già forse una sua l'ho già commentata andiamo avanti altra prima e dopo quale incodratura preferite calogero che ti devo dire la gente dice la seconda ma secondo me anche qui è soggettivo quella in altro a me sembrano speculari sono speculari infatti andiamo avanti non ci interessa perché alla fine ha fatto bene a fare la domanda ma alla fine non è che cambi molto è sempre la stessa foto allora Giovanni l'abbiamo già commentata andiamo avanti Cristina Mazzola buongiorno a tutti vorrei un consiglio su che zaino fotografico comprare mi servirebbe qualcosa di non troppo pesante con spazio per fotocamera accessori per gli oggetti personali consigli ci sono i consigli vari un'altra cosa del gruppo interessante è che se non fai il cretino che viene a cercare di vendere le robe tue quello no non è accettato ma se tu consigli cose che hai provato e testato di tuo pugno sei libero di farlo e soprattutto sei libero di chiedere consigli agli altri e gli altri sono liberissimi di consigliare di linkare dei siti dove poter acquistare materiale valido provato e testato quello che posso dire gli zani ce ne sono tanti io ne ho provati diversi non vi darò consigli sulle marche perché non mi interessa darveli valutate anche qualche trolley con le ruote perché alle volte scaricare se le avete tanto peso sulla schiena spesso portarvi in giro tante cose diventa un po' complicato è anche vero che col trolley non vai ovunque quindi se dovete affrontare percorsi complessi meglio lo zaino allora covo di luce Claudio Parente posta foto interessanti questa è una foto un po' particolare però non riesco a capire non riesco covo di luce sono delle serre riflesse riflesse nell'acqua non mi fa sbroccare ho visto foto molto più belle di Claudio andiamo avanti magari ce ne capita un'altra Sergio di Carluccio spesso grande Sergio ci siamo anche scritti spesso ci sono emozioni che non si possono spiegare perciò io cerco o quantomeno mi illudo di congelarle in uno scatto ecco mi sa che non ci sei riuscito Sergio ti voglio bene però fai bene a cercare di 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 bloccare le emozioni in uno scatto è assolutamente lo scopo della fotografia la direzione è giustissima magari questa foto non l'hai congelata per te perché magari hai vissuto un'emozione in quel momento ma non sei forse riuscito a trasmetterla ma vai avanti su questa strada allora Rosa io ho già commentato questa foto Rosa intanto leggiamo cosa ha scritto buonasera a tutti vorrei mostrarvi una foto fato una foto fato una foto fato o voleva fare del rap o semplicemente un errore di scrittura una foto fatta in analogico con una Olympus OM1 che ancora devo sviluppare ho fatto la scanalizzazione con con un'app scaricate su tablet perciò la qualità non è il massimo spero che vi piaccia se avete dei consigli o critiche li accetto volentieri per poter migliorare grazie allora la Rosa la Rosa ha fatto una bella foto ragazzi poco da dire ha fatto una bella foto ingrandiamola ha fatto un bello scatto perché perché innanzitutto si è buttata scattando quella pellicola quindi capito ha iniziato mi pare che cosa dice non è non è non è iniziato non tanto a scattare scatta in analogico prova la pellicola è fantastico perché cominci a capire veramente a utilizzare diaframmi tempi per forza quando scatti in pellicola devi necessariamente sbatterti a capire cosa stai usando come impostazioni non le puoi fare a caso le cose quindi Rosa può provare sulla sua pelle varie situazioni in questo modo e non solo ha tirato fuori una buona immagine perché al di là della compressione di facebook però funziona questo mondo un po' morbido intorno a questa donna vera una donna vera questa che che è un'immagine che mi risulta vera da vedere mi piace è un bel bianco e nero forse un filino sottesposto però alla fine ci sta nel mood dell'insieme mi piace la posizione mi piace questa donna un po' in carne che non è che non è finta mi fa schifo questa questa firma qua purtroppo Rosa ma questo in generale lo dico sempre poi qua in particolare ti sei ti sei proprio hai proprio esagerato vabbè però comunque infatti glielo ho scritto bello scatto peccato la firma poco visibile si scherza no ci siamo scritti eccetera eccetera allora vediamo cosa dicono gli altri sì in effetti la firma si deve poco la foto è bella ma la firma un po' meno vabbè ok questo andiamo avanti ovviamente la firma a parte mi piace molto la gente piace ora la metto qui da una ora ecco ne è postata una senza firma vediamo anche questa bella bella anche questa bella bella la donna bella la posizione sì sì oddio sono uscito che ho fatto allora Riccardo dice Riccardo lo conosco ci conosciamo benissimo con Riccardo è un bravissimo regista e cosa scrive Riccardo Riccardo dice fotografia bellissima intima e personale senza bisogno di effetti speciali color correction o ritocchi leggermente sottoesposta invece leggermente sovraesposta quella nei commenti è firma inguardabile per il resto ottimo lavoro riesce a restituire con uno scatto un intero mondo merito anche della modella bravissime quindi prendersi questo commento da Riccardo è una bella è una bella cosa vediamo cosa risponde Rosa come ho già scritto sopra la foto è stata scandalizzata con un'app scaricata con un rende tantissimo ma vedendo il rullino non mi sembra tanto male anche se ripeto non è che capisco tanto di tecniche vediamoci anche queste Rosa sì 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 bella dirai che l'ho chiusa allora andiamo avanti qua Riccardo scrive si vede che la qualità c'è non preoccuparti della scansione non appena la farai stampare o scansionare come si deve otterrai delle ottime immagini tra i due scatti il mio preferito è quello verticale col fumo Antonella condivide l'opinione di Maria Giù molto intensa bella bella gli altri commenti su non l'abbiamo letti ma vediamo perché dai commenti poi sono spunti mi dobbiamo sempre leggere un po' tutto bello scatto questo l'ho scritto io ma l'avevo già letti questi sì questi l'ho già letti ah Vincenzo Cannid scrive a me sinceramente non piace a Vincenzo non gli piace per esempio troppo scusa scura voleva dire l'espressione del viso no forse voleva dire non mi piace troppo scusa l'espressione del viso non mi trasmette nulla poi la sigaretta la vedo come un brutto messaggio ma perché dai Vincenzo alla fine una sigaretta ci sono 50 anni di cine ma dietro alle donne che fumano no dai non è così drammatica una sigaretta comunque la tua opinione è ben accetta e il fumo della bocca di una donna ha davvero poco di sensuale no dai questo no questa non te la passo Vincenzo vabbè non ti piacciono le sigarette non fumo più neanch'io quindi da questo punto di vista che fanno male siamo assolutamente d'accordo infatti penso che fumino molto meno persone in Italia di questo sono contento però alla fine in foto se non è un editoriale da stampare su un giornale ma è un esercizio come questo va benissimo funziona ovviamente la cosa è soggettiva io avrei provato uno scatto in cui era senza sigaretta e in cui si copriva con le mani ah dimenticavo il dito del piede anche se sotto quella firma si vede che è tagliato e non va secondo me ma questa cosa è una cosa che leggo molto spesso qua nel gruppo cioè molti ritengono che il taglio del piede il taglio della testa il taglio del gomito il taglio della mano allora quello che penso io è questo non ci sono spesso si leggono queste cose nei manuali vengono dette nei corsi base eccetera eccetera in linea generale in linea generale è vero che i tagli delle arti delle parti del corpo non sono fantastici ma ci sono delle eccezioni come in questo caso questo caso è un'eccezione tagliare il piede qua non succede niente perché il piede è molto scuro è fuori ormai dall'inquadratura non è il punto nevragico della foto che in realtà è sul viso qua perché vedete come subito l'attenzione la posizione delle braccia la posizione della mano della sigaretta portano tutta l'attenzione verso il volto della donna quindi in questo caso non ritengo sia un problema andiamo avanti ragazzi andiamo avanti fenicottero Ivana Angioni Ivana Angioni pubblica questa foto con un fenicottero che ha un riflesso che è quasi potente come come e fa questo gioco carino che è interessante come sempre la firma ammazza la foto ma questa è solo una mia opinione però ok attenzione sempre quando postate le foto alla ai pixel no perché poi se no facebook comprime un po' male le distrugge un po' le foto una foto magari bella la riduce un po' a una foto un pochino meno bella allora Lorenzo Depodesta o Depodesta non so come si pronuncia pareri critiche consigli vediamola è una foto è uno scatto allora innanzitutto Lorenzo mette una firmetta piccolina almeno discreta che non va a distruggere completamente la foto già questo va un po' meglio beh non so dove guardare sinceramente non ho faccio un po' fatica a trovare un un soggetto sì sicuramente mi casca l'attenzione la prima cosa che mi viene in mente a me è su questa ragazza qua che mi guarda poi c'è questo questa cosa colorata qui però è una foto che sinceramente mi confonde un po' non mi non mi racconta niente di non si capisce cos'è una foto reportagistica di paesaggio non lo so Lorenzo non ti so non ti so dare dei pareri precisi ti dico vai avanti fai altre foto e poi sulle prossime magari ti posso aiutare meglio magari c'è qualcuno che ti può dare un consiglio migliore mi sembra che cada così come pesi mi cade un po' verso sinistra questo ti posso dire come pesi allora allora Fabio Cartelli ci dà i dati tecnici chiede pareti sulla foto e sul taglio vediamo vediamo la foto di Fabio allora mi cade anche questa verso sinistra ho la sensazione che mi cada verso sinistra probabilmente l'avrei bilanciata un po' la foto cosa dire anche qui qual è il soggetto il muro la schiuma dell'acqua l'acqua per terra cercate quando fotografate sempre di avere bene in mente cosa volete raccontare per andare poi a colpire giusti giusti Petruzzi Giorgia dice ho pensato di modificarla un po' per farla sembrare più pittorica che ne pensate ammazza Giorgia un po' l'hai proprio esasperata pesantemente cosa ti dico non mi piace quando quando si esagera tanto ma questo in linea generale è normale all'inizio non so se sei all'inizio scuso se mi permetto di dire ma queste cose di solito si fanno quando si sta iniziando a fotografare queste esasperazioni cromate poi c'è chi usa queste tecniche però in modo conscio sa quello che fa e allora le rende attinenti alla fotografia e funzionano bene in questo caso siccome non c'è un paesaggio ma poi il cielo diventa talmente finto che quasi diventa una è fuori completamente dalla realtà quindi non non riesco a valutare una foto del genere non mi sembra neanche più una foto e Gilberto dice forse un po' troppo pittorica e in effetti c'ha ragione Gilberto e lei e Giorgia giustamente risponde grazie seguirò il consiglio si segui assolutamente Giorgia cerca di far sì che la foto già ti piaccia quando la scatti perché la prospoduzione non serve a far diventare bella una foto serve a migliorarla Savino D'Autunno buonasera bella gente wey Savino ciao Savino volevo una info da gente più pratica di me ho iniziato a fare foto con tempi bassi ed ho fatto foto con macchine di movimento per ottenere l'effetto mosso dietro ho impostato priorità di tempi tv canon ma quando ho impostato vabbè qui vedo che c'è qui andatevela a vedere perché gli hanno dato dei consigli sono cose tecniche noi andiamo un po' più veloci sulla parte creativa Marco Campagnone ok pubblica un bello scatto di architettura interessante anche qui forse a parere mio io parlo sempre per me mi sarebbe piaciuto di più se ci fosse stato un filino di più di spazio qua sopra e se questa linea qua fosse stata più dritta e al centro dell'immagine per farmela sembrare più simmetrica però la mia opinione allora poi Giuseppe Petenzi pubblica una foto qua con una signora che prepara la vasta è un bel bianco e nero ha una ok con facebook non si capisce mai perché comprime sì è uno scatto reportagistico sì è un bel bianco e nero solo che non è che mi racconti niente di c'è una signora che fa la pasta questo è un po' la sintesi quindi se la stessa immagine con la stessa potenza di contrasti invece della signora che fa la pasta ci fosse stata che ne so dico una cavolata una donna che si sta bevendo cioè che che sta si sta facendo di eroina su il mobiletto mentre guarda Sanremo che ne so allora magari mi dava qualche informazione in più mi stimolava la fantasia mi faceva venire voglia non di guardare Sanremo ma di farmi di eroina no scherzo va bene andiamo avanti Dennis Frandi pubblica ho letto bene Dennis Frandi pubblica una donna una sposa no non è una sposa boh non lo so non c'è scritto che con dei palloncini dietro mi viene subito in mente It il film di It del grandissimo film It composizione sicuramente giusta l'avrei lasciato un po' di spazio qua sotto ma queste sono stupidaggini facciamo sempre un po' attenzioni alle mani perché poi anche le modelle professioniste quando sono in tensione tendono un po' a rannicchiare le mani come se fossero dei ragnetti in tiri ziti come in questo caso quindi si concentrano magari molto sul volto sulla postura eccetera però dalle mani puoi percepire quella tensione questa cosa bisogna sempre cercare di ammortizzarla a noi fotografi perché bisogna fare attenzione a tutto perché poi la foto è tutto quello che vedi cosa dire è molto truccata tanto truccata per i miei gusti però sono i miei gusti ripeto ognuno fa quello che vuole andiamo avanti Francesco Lentini pubblica questa foto della storica diatriba ancora fra Nikon e Canon ok ognuno dice la sua c'è chi parla della Canon chi parla della Nikon Marco Camponi compagnone abbiamo già visto una sua foto questa è una foto del suo gatto probabilmente andiamo avanti Ottavio Cappellini posta questa foto allora vediamo cosa gli scrive la gente ora siamo per terminare se no diventa troppo lungo un video di un'oretta è più che sufficiente allora vediamo la foto e vediamo cosa soprattutto gli consigliano gli altri allora Enrico scrive Cardiff pendente direi in effetti pende tanto questa immagine da un lato a parte questo avrei alzato un po' l'inquadratura eliminando la parte inferiore del ponte avrei girato più verso destra eliminando quella parte di struttura sulla sinistra Giovanni scrive concordo con Enrico la luce è bella ma l'architettura proprio come regola vuole che le linee verticali degli edifici restino tali in foto e idem per le linee orizzontali poi effettivamente l'edificio che è il soggetto è un po' soffocato sopra e ha troppo nero sotto sono d'accordo è vero che l'architettura eccetto alcune eccezioni appunto vuole che le linee prospettiche siano dei palazzi siano dritte qui mi sa che bisogna fare un esercizio ulteriore prima bisogna radizzare l'inquadratura poi ci sarà il discorso di migliorare la prospettiva c'è da lavorare Ottavio ma vai avanti faccio vedere le nuove foto la Cristina buon pomeriggio a tutti mi chiamo Cristina e sono nuova di questo gruppo ho iniziato a fare foto un po' più di un anno fa mi piace fotografare cose semplici e renderle particolari per ora uso una Canon EOS 700D spero vi piacciono le mie foto e accetto qualsiasi critica o complimento vediamo questa è una panchina un dettaglio di una panchina profondità di campo strettissima ci fosse stato qua qualcosa mi sarebbe forse interessata così mi interessa poco qui c'è una donna con un ombrello rossa riflesso non uno specchio e qui c'è una bambina allora intendenzialmente a me le immagini in bianco e nero con un elemento solo colorato non mi fanno non mi piacciono per niente e questo è un mio gusto però non le trovo un gran che c'è da dire di positivo di questa cosa che hai cercato Cristina di lavorare sull'elemento del rosso e questa è una cosa da sviluppare la prossima volta magari evita di fare questa foto in bianco e nero completamente cerca di lasciarla a colori e di far sì che comunque questo elemento venga fuori meglio e lavora così come hai fatto migliorandoti va bene vediamo un po' i commenti molto belle complimenti Anna scrive grazie mille belle abbiamo la stessa reflex dice salvatore grande Enrico scrive bella è l'idea di fotografare un colore e quindi concentrarsi solo su quello trovo queste foto molto interessanti dal punto di vista compositivo grazie dice Cristina Bruno scrive beh quanto meno hanno un carattere è importante creare uno stile personale altrimenti possiamo tutti fare delle belle cartoline anche questo è vero Cristina dice sono d'accordo ho iniziato da poco quindi sto cercando ancora il mio stile Bruno scrive eh ma per trovare il tuo stile Cristina hai voglia di tempo guardare le fotografie dei grandi fotografi aiuta molto non per scimmiottarli ma per elaborarli e piegarli al tuo stile inoltre vedere scatti di fotografi eccezzi aiuta a educare l'occhio dice Bruno ed è assolutamente vero grande Bruno grazie per il consiglio Rino scrive molto belle complimenti Cristina risponde grazie con la faccina con i cuori giustamente allora Giovanni vedo eccellente istinto ottima capacità di vedere la foto nella mente prima di farla poi ovviamente manca ancora della pratica quella tecnica che permette di passare l'idea scusami quella tecnica che permette di passare l'idea in foto ma quella cresce scattando analizzando le foto allora non ti esaltare troppo Cristina non hai fatto dei capolavori non scherzo a parte di scherzi continua così vai sviluppa questo tema dei colori che è interessantissimo lavoraci perché è interessante vai avanti allora Marco compagnone ho commentato forse c'è una foto sua una delle mie prime è una scattata in studio è una bella esperienza una bella composizione non mi piace tanto zeppiato così però è una bella composizione una bella donna vabbè questo è un po' anche il mio mondo nel senso che faccio foto di pubblicità di moda e quindi sono un po' parecchio ridio su questi su queste foto qua cioè io più che criticare la foto qua che la luce eccetera mi verrebbe da criticare magari alcuni elementi di vestiti di cose ma non sto qui a annoiarvi di questa roba la conciatura ci sta eccetera magari la postura del piede della gamba queste cose qua però vabbè è una è un lavoro sopra la media diciamo bravo Marco andiamo avanti ah un'altra foto con Caterina Caterina la conosco molto bene non l'hai non l'hai voluto benissimo questa foto però eh chi è che l'ha truccata così scura così vabbè comunque secondo me ce n'è di meglio di Caterina rispetto a questa andiamo avanti andiamo avanti Marco c'è una foto è una foto vecchia o nuova boh è un po' che non la vedo la Caterina allora alleva Christian lasciate che i bambini siano felici a modo loro allora è una foto del bimbo come sempre io tutte queste scritte non le adoro sì carine una bella cromia di colori vediamo anche questa sempre delle stesse preferisco questa colorata anche se anche se non mi fa impazzire però andiamo avanti andiamo avanti qualcuno ha commentato no per ora no poi vediamo alleva Christian anche questa sua Paolo Perez vi tengo d'occhio piccola lumaca grande circa una moneta da 5 centesimi fotografata in controluce hai capito la lumaca non so cosa dirti Paolo mi verrebbe di dire che questa lumaca ci deve raccontare qualcosa questa lumaca mi sa perché ci sta guardando veramente dall'alto verso il basso andiamo avanti allora Enza Galluzzo ci pubblica uno dei tanti tramonti che vedo spesso sul gruppo ho usato la priorità di tempio per via degli animali in modo in volo però l'iso basso mi sa che non va boh vedo troppo avrancione suggerimenti allora non è qui l'arancione è la temperatura colore allora parte il fatto che al tramonto è normale che la luce sia così arancione e ci può stare per un tramonto però si parla di bilanciamento del bianco qui poi ho realizzato già un video sulla temperatura colore che posterò un po' più avanti già per ricominciarvi per chi non lo sa cominciare a spiegargli veramente cosa sono i gradi kelvin nella temperatura colore poi ne farò uno anche specifico sul bilanciamento del bianco in modo tale che poi vi può è fondamentale perché il bilanciamento del bianco spesso si parla di diaframmi di tempi iso eccetera e si disconosce tutta la parte legata alla temperatura colore è assolutamente fondamentale vediamo cosa gli scrivono il bilanciamento ok qualcuno parla di bilanciamento del bianco vediamo un po' i commenti allora oddio ah ok claudio scrive il bilanciamento del bianco giustamente ombra mi pare se l'hai messo ombra è per quello che Enza è venuto è venuta così calda e Gianfranco mette l'omino che si mette la mano davanti disperato che c'è dice Enza ho la macchina da due mesi si arrabbia tantissimo sto facendo prove e riprova altrimenti non verrei qui a chiedere oppure metterei in automatico e via si arrabbia la Enza giustamente prova a sistemare il bilanciamento del bianco in post produzione oppure in fase di scatto fai le prove magari partendo da ombra come in questa situazione cambiare lasciando in automatico la vera differenza sui due scatti Enza si in effetti magari in automatico andava meglio grazie mille Spino Silvestri dice non vorrei dire una fesserina ma mi sembra sovra esposta mi pareva dice Enza il contrario boh questa è quella in automatico e cambia il cielo un po' vabbè comunque ora che l'ho ricontrollata in macchina non sembra così carica forse dovrei scaricarle meglio sul pc prima le foto Enza sta facendo le sue valutazioni Antonello scrive credo sia solo un problema di bilanciamento del bianco il sole diretto nell'obiettivo ti dà l'arancione diffuso i tramonti sono arancioni c'è poco da fare giustamente perché la temperatura colore di un tramonto è molto calda io avrei giocato su saturazione e white balance per trovare il giusto equilibrio grazie dice Enza consigli utili consigli utili e con la foto di Enza direi che per oggi abbiamo dato chi non è e non conosce non è iscritto al gruppo non lo conosce vuole iscriversi lo cerchi tranquillamente su facebook risponde alle domande per l'iscrizione io lo accetterò molto volentieri chi è già nel gruppo mi dica cosa ne pensa di questa sorta di rubrica che sto facendo per recuperare tutti i commenti a cui non do una risposta poi cos'altro ecco non ho un nome per questa rubrica troviamogli un nome datemi una mano a trovare un nome a questa sorta di riepilogo di quello che è successo nelle ultime foto poi appena c'ho tempo libero mi metto a fare questa cosa vediamo se piace se non piace giuro smetto subito ciao a tutti e ciao fotografo soprattutto ciao a tutti